Il concerto a perlettro della città di Taormina è un importante momento perché segna il debutto di Taormina Arte assieme ad altri enti, tra cui il Parco archeologico e il Taormina Film Fest, per eseguire delle attività di spettacolo dal vivo. È una linea che abbiamo deciso di intraprendere, a cui seguirà prossimamente, presumibilmente, delle altre iniziative anche in campo teatrale. Per esempio quest'estate abbiamo avuto lo spettacolo di Gabriele Lavia, che potrebbe tranquillamente essere replicato proprio in diretta streaming. La diretta streaming è stata ampiamente utilizzata dal Taormina Film Fest sulla piattaforma My Movies la scorsa estate e sarà sicuramente replicato perché ha consentito una diffusione molto capillare del Festival del Cinema in moltissimi contesti.